Poi ci sono dei problemi che possono avvenire invece a questo livello, quindi sono gli impianti e sono per esempio le infezioni, le infiammazioni croniche degli impianti che portano a riassorbimento dell'osso. Vi faccio vedere se ho qua una fotografia che vi fa vedere proprio questo, così avete un'idea anche di quelle che possono essere le problematiche sugli impianti dentali. Quindi andiamo qua, qua giù, ecco qui, questi sono tutti multi unit, multi unit, ecco qua, vedete qui? Per esempio l'osso si sta riassorbendo attorno all'impianto, è un problema questo? No, non è un problema, o meglio è un problemino piccolo, perché se io vado, faccio una piccola incisione, ripulisco questa superficie e chiudo, due punti bastano per questo, è un'operazione che chiede massimo 20 minuti. Se invece ho un coinvolgimento, per esempio, del terzo medio dell'impianto, ok, io posso avere delle recessioni osse che arrivano per esempio fino alla linea gialla. Queste in genere non sono problematiche. Quando invece ha recessioni osse e mi arriva fino a questo livello, qua prendo in considerazione di fare un intervento un po' più complesso, magari ricostruire l'osso. Oppure, se arriva oltre questa linea, posso anche già considerare di svitare via l'impianto, ricostruisco l'osso e ne metto un altro. Cosa mi comporta però mettere un altro impianto? Che devo cambiare la direzione e in quel caso devo anche cambiare la protesi sopra. L'ideale è non arrivare mai in questo stadio, ok, ci possono essere recessioni fino a qua e sono fisiologiche, nel senso che quando noi operiamo l'osso poi si modifica nei mesi e solitamente l'osso si è visto che si modifica tanto, aggiungo la parola tanto, entro i primi sei mesi. Quindi se noi mettiamo l'impianto qua, dopo quattro mesi diciamo che l'osso è integrato, però delle volte a quattro mesi molti pazienti tornano per fare cosa? Mettere altri impianti. Finiscono, dopo altri quattro mesi noi ci prendiamo ancora abbondanza altri sei mesi per fare il controllo qua in Moldavia. Ok, perché il primo controllo si fa in Moldavia? Proprio perché noi sappiamo che tutti i problemi più importanti di articolazione, di osso vicino agli impianti oppure di rotture protesi che si hanno entro questi mesi. Se non si hanno macro problemi entro i sei mesi ci possono essere dopo problemini. Ok, non contemplo i problemi estetici perché quegli estetici, l'estetica è relativa, ciò che piace a me non piace a te, lì dipende invece dalla comunicazione. Stiamo parlando di problemi che possono essere meccanici oppure batterici o di postura, problemi di cedimento di materiali, cedimento dell'osso oppure infiammazione cronica che porta le gengive a essere infiammate. E gli impianti sono più delicati delle ossa normali. Qua vedete per esempio un impianto dentale con tecnica all'onfor che l'osso si sta riassorbendo attorno alla vite, questa zona un pochino più scura. Noi possiamo andare a verificare se ci sono degli scollamenti tra l'impianto e la gengiva. Se vediamo che la sonda entra oltre un certo livello di guardia allora lì bisogna considerare già un tipo di igiene, di pulizia.